23 aprile, ore 21, Fiera di San Giorgio con il maestro Claudio Ramuraglia, un grande concerto per la 722esima Fiera. Sì, è un evento che noi qui a Gravina aspettiamo sempre. Sono onorato di quest'anno di poter realizzare il concerto di San Giorgio, un concerto che noi sentiamo e in particolar modo la nostra orchestra sta preparando un repertorio specifico appunto per l'evento. Cosa ascolteremo? Beh, il concerto si divide praticamente in tre parti. La prima parte noi la dedichiamo allo splendore musicale che ha avuto Gravina nei secoli scorsi con delle sinfonie che hanno dato lustro alla nostra antica città e quindi i compositori nostri locali. Moricone e altri, diciamo, best seller del cinema come Piovani e Bakalov. E la terza parte la concludiamo con le musiche tipiche etniche dell'Altamurge, praticamente. Quindi tra tradizione e cultura. Sì, è sempre così. Questa è una delle filosofie della nostra orchestra. Quindi buona musica. Sì, io invito tutta la popolazione ad essere presente al nostro evento, tanto alle 21, quindi dopo che hanno visitato la fiera, perché non se ne pentiranno per niente. Il concerto è abbastanza leggero e brillante di queste belle musiche e come noi abbiamo avuto il successo con lo scorso concerto dell'Epifania e penso che non se ne pentiranno neanche adesso.